La natura ancora una volta purtroppo deturpata. Vasto incendio infatti nella zona tra Rocca Morice e Caramanico Terme. A fuoco una faggeta difficile da raggiungere da terra. La zona impervia in forte pendenza ha reso difficoltose le operazioni di spegnimento dell'incendio. Il fronte delle fiamme si è esteso per circa un chilometro. Da questa mattina è entrato in azione un Canadair decollato da Roma che ha effettuato vari lanci prelevando l'acqua dal litorale adriatico e dal lago di Casoli. Il presidente del parco nazionale della Maiella Lucio Zazzara. Danni ingenti alla flora e alla fauna del parco nazionale Maiella però la situazione in questo momento è sotto controllo possiamo dire senza tema di essere smentiti. Sì in questo momento la situazione è sotto controllo e grazie all'intervento dall'aria che è stato possibile questa mattina e purtroppo non possibile ieri pomeriggio e quindi voglio dire con un incendio che ha trovato spazio questa notte anche grazie al vento leggero ma comunque al vento che c'era e quindi che ha potuto espandersi ulteriormente. Per fortuna siamo in una zona diciamo prima priva di macchie importanti e priva diciamo di 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 grosso sostegno alla alla combustione e purtroppo noi temiamo che anche questa volta sia l'incendio sia stato provocato volutamente in natura dolose. Noi immaginiamo di sì anche questa volta la scorsa volta abbiamo abbiamo da subito rilevato alcune tracce che erano inequivocabili devo dire però che queste persone vengono sempre più spesso perseguite vengono sempre più spesso individuate quindi non devono dormire sonni tranquilli perché sono state elaborate tutta una serie di tecniche per individuare gli autori e ci sono anche diciamo dei mezzi che aiutano molto le forze dell'ordine in questo senso.